Ricorderete tutti Fabio Macellari, famosissimo calciatore Pogna e varie altre squadre. Cagliari, Lecce e Inter. Allora, tanto di cappello, ovviamente il fatto che ti faccia il panettiere e faccia il taglialegna, dopo tanto succede, come hai fatto a spendere tutto? Eh Barbara, diciamo che quando sei giovane comunque non ti rendi conto della fortuna che hai perché comunque i guadagni sono tanti e quindi la bella vita che vedo fatta anche dai ragazzi e dalle ragazze è quella che ho fatto io esagerando e che poi comunque sia prendi banchi, sparchi, apprendimenti, offrire sempre in discoteca, poi io sono un cuore buono quindi solitamente sono sempre stato quello che offriva sempre. E tutto questo poi ti porta a mantenere un livello di vita che quando smetti di giocare comunque scendi categoria, poi alla fine insomma i soldi poi finiscono. Che la droga poi alla fine porta a questo? Porta a questo, ecco, e se non fosse stato che comunque sia non sbatti la testa mille volte, alla fine o capisci di ricominciare da zero e hai degli affetti o la fortuna di avere dietro una famiglia, di avere tutta la famiglia al completo, di avere un figlio stupendo. E quindi questo, o ricominci a lavorare, a avere la voglia di lavorare, o se no muori e fai prima.